Voglio riportare qui alcuni dati presi dalla Globusk.Russia, un sito, siccome cercavo delle nuove gomme, ho trovato questo sito. Il modello WAZ 452, nota ai cittadini come pagnotta, è il risultato dello stabilimento automobilistico di Ulyanovski, con una lunga storia. L'inizio del rilascio risale al 65 e questo è un veicolo in cui è possibile trasportare sia merci che passeggeri. È un 4x4 e permette di superare le strade più, non tremende, però le aspre strade, diciamo. Il furgone è progettato molto semplicemente, ma nonostante questo è affidabile ed ha una buona pervietà. E grazie al suo prezzo e alla sua versatilità dovrebbe venire, anzi, assaggia, piace a coloro che adorano il tuning e agli intenditori dei vecchi fuoristrada. Uno dei principali svantaggi del modello Bukanka è la completa assenza di sistemi di sicurezza. Infatti gli airbag non ci sono e l'unica cosa dotata sono le cinture di sicurezza per il conducente e per i passeggeri. Per i conducenti ci sono delle sedie comode con una possibilità di regolazione longitudinale, quindi sono anche leggermente inclinabili. E sono tra l'altro anche riscaldati, come vi ho fatto vedere in qualche altro video. Il pannello centrale è dotato di pulsanti per riscaldamento e c'è anche una nicchia per il sistema audio presa a 12 volt. Per quelli seduti nella parte posteriore dell'abitacolo, anche lì c'è un altro riscaldatore con ventola. Grazie a questo l'auto viene supportata con una temperatura uniforme ed ottimale. C'è da ricordare che la macchina non è stata creata a livello cittadino, ma è stata creata per scopi militari. Il suo design non è il cavallo principale. Questa macchina in effetti sembra molto vintage, sembra già molto vecchia. E non è caratterizzata da una buona qualità del metallo. Però, nonostante i proprietari siano delusi, il metallo infatti si arrugginisce molto rapidamente e in tutti i punti, in tutti i luoghi. Per salvare in qualche modo l'auto in una forma incontaminata, i proprietari devono ripetere annualmente la procedura di elaborazione anticorrosiva. Un'altra cosa, le dimensioni del corpo non sono mai cambiate nel corso degli anni di produzione, quindi la macchina ha una lunghezza di 4,36 metri e una larghezza di 1,94, con un'altezza di 2,09. L'importante da menzionare è che dal 2011 questo motore ha iniziato a rispettare gli standard ecologici Euro 4. Il consumo del carburante, secondo i dati del passaporto, è apparentemente di 11 litri nel ciclo misto, ma nella pratica il consumo reale in effetti si avvicina ai 16 litri. La trasmissione inizialmente era completata da una trasmissione manuale a 4 stadi, successivamente è stata sostituita da una meccanica a 5 velocità, un po' più moderna. Il box delle trasmissioni è piuttosto rumoroso e non sono sempre incluse in modo chiaro, ovvero cambiano un po' da mezzo a mezzo. Se si sta preparando la macchina per un fuoristrada, la scatola potrebbe non mascherare la coppia che il motore trasmette. Di conseguenza la frizione si guasta, così come gli alberi primari e secondari insieme ai cuscinetti. Questi sono dati che io vi sto riportando direttamente dalla globus.rus che potete trovare in rete. Grazie a tutti.